Io credo che la differenza la faccia, la passione, la serietà e la voglia di far bene e con questi presupposti le difficoltà si superano. Grazie per avermi invitato qui, però ci sarei venuto anche lo stesso, anche senza invito perché comunque il cuore batte sempre qui. Daremo anche la bandiera a scacchi per decretare la fine ufficiale di questa 35esima edizione del Rally della Marca, nel frattempo ovviamente la foto ricordo del Rally della Marca Trevisiana che accogliamo con grande applauso, mano in su sella, con Gabriele Fazzone. Mano in su sella, Gabriele Fazzone, premoni davvero un grande, grandissimo applauso. Eccoli qua, su sella Fazzone, con la Ford Fiesta VRC, un grande onore, un grande onore per questi due piloti, per questo equipaggio, un grande onore per questa squadra, questa macchina. I vincitori di questa 35esima edizione del Rally della Marca Trevisiana, consegniamo le coppe, in alto le coppe per tutti i tre, gli equipaggi, foto con le coppe alzate per i tre equipaggi, anche lo staff, le nostre miss, grazie, le autorità, tutto lo staff. Stappo nel spumante di Valdobriadere per festeggiare questo podio di questa 35esima edizione del Rally della Marca Trevisiana, complimenti.